Il comune di Agropoli ha giudicato l'appalto per i lavori di rifacimento della pista di atletica presso lo stadio comunale Guariglia ed adeguamento della struttura alla normativa della Lega Italiana Calcio Professionistico. Sarà giovedì 9 luglio infatti la cerimonia della posa per la prima pietra alle ore 17 presso lo stadio alla presenza delle autorità locali e delle associazioni sportive, in particolare quella dell'Atletica Agropoli. A giudicatario dei lavori è risultata la ditta di Maio Geometro Francesco SRL Giffoni Vallepiana per un importo complessivo di 278 mila euro che l'ha spuntata su altri 31 partecipanti. A breve quindi saranno affidati i lavori che dovrebbero essere ultimati entro la fine dell'estate. La pista è rovinata, inadeguata e non è utilizzabile né per gare ufficiali né per i tanti che ad Agropoli praticano l'Atletica. Una volta completato il restyling della pista l'impianto potrà ospitare anche importanti eventi nazionali di Atletica Leggera, essendo una delle poche piste ad otto corsie del Meridione. I lavori, spiega il sindaco Alfieri, prevedono il rifacimento della pavimentazione della pista di Atletica, una delle poche in campagna ad otto corsie, e la sistemazione degli spazi per le varie discipline. Inoltre saranno effettuati interventi per adeguare la struttura alla normativa della Lega Calcio.